Settimane in scena già a partire dal 24 febbraio e sarà in scena fino al 15 marzo, quindi all'interno c'è anche l'8 marzo, festa della donna, non una scelta casuale immagino, ma lo chiederemo alle protagoniste, visto che ci si occupa in particolar modo di violenza sulle donne e già nel titolo dello spettacolo c'è tutto il messaggio che si vuole dare, anche il contrapasso rispetto a una delle frasi forse più abusate da parte degli uomini che poi tendono alla violenza sulle donne, no? Sei solo mie, una delle frasi più ascoltate da questo punto di vista. Ne parliamo, parliamo dello spettacolo, parliamo di che tipo di riscontro sta avendo con il pubblico, con due delle protagoniste, che ringrazio e saluto partendo da Gianna Brail, salve, benvenuta nei nostri studi e ringrazio e saluto anche a Narita Luongo, altra protagonista, insieme ad altre quattro colleghe. Siamo sei attrici, sì, siamo in sei, in scena, sono sei storie di donne, li accomuna una cosa, nella loro vita la violenza da parte di compagni, da parte di uomini, tutte e sei l'hanno vissuta, si incontrano in questo centro antiviolenza, ci sono sai, tipo gli alcolisti anonimi, questi, dove non, la moderatrice non è uno psicoterapeuta, ma è una donna che ha subito a sua volta e si è messa in gioco creando questo gruppo, molto americano. Sì, è una cosa molto americana, però, esatto, secondo me servono questi, perché parli e soprattutto ti rendi conto che il problema che stai vivendo non sei solo tu a viverlo, ma ci sono altre persone e sai, il confronto nella vita è sempre, ti porta sempre qualcosa. L'elemento, diciamo, di cronaca, dello spunto di questo spettacolo è però che gruppi di autoaiuto per violenza sulle donne, insomma, ne sono sorti diversi, ma negli ultimi anni. Prima questi problemi vengono vissuti molto in solitudine, invece proprio questa esperienza di racconto tra donne che hanno vissuto esperienze simili, in qualche modo alle protagoniste di questo spettacolo, per un buon periodo è elemento d'aiuto, no? Sì, no, è assolutamente elemento d'aiuto perché consigliandosi, ascoltandosi, soprattutto avere il coraggio di raccontare quelle cose che hai dentro e che anche per una sorta di tabù non racconti, perché ti vergogni. E ecco, ci sono personaggi che per esempio non riescono a distaccarsi da quello che è questa violenza, perché credono nell'amore vero, perché credono che con l'amore riescono a cambiare questa persona e poi non accadrà. Poi ci sono anche personaggi che vivono lo stalking, personaggi che comunque non hanno mai visto la persona di cui si erano innamorati, che poi sono cose che viviamo giornalmente con internet, no? Quando si conoscono questi mythic, queste cose un po' particolari. E poi c'è anche un personaggio che non subisce direttamente, che è il mio personaggio, ma ha subito tramite sua figlia. È la bambina che ha subito e che si è uccise, quindi sta lì e ascolta e partecipa in maniera diversa. Quindi sono vari tipi di violenza. Rivivendo probabilmente attraverso i racconti di queste donne il dolore della figlia. Assolutamente sì. E imparando anche forse, perché c'è anche questo personaggio giovane che ha subito una violenza e attraverso lei, lei forse impara, apprende o capisce quello che la figlia ha vissuto in maniera più forte e il perché poi è arrivata a suicidarsi. Donna Braille, il suo personaggio invece? Dunque, il mio personaggio si chiama Fiorella. Volevo dire una cosa, sono tutte storie vere, prese dalla cronaca. Poi sono state elaborate a livello teatrale. È drammaturgico. Invece Fiorella è una milanese che è trasferita a Roma, ha già avuto un matrimonio alle spalle, però un matrimonio si sono lasciati, come capita nella vita. Erano giovani. Incontra quest'uomo, dove probabilmente hanno anche una grande attrattiva fisica e purtroppo però questo è un uomo violento, un uomo geloso, un uomo ossessivo, un uomo paranoico. Per cui è proprio paranoico. Fiorella è una donna però che denuncia, perché è una donna moderna, che probabilmente viene anche dagli anni 70, dove c'è stato tutto un movimento femminista. E per cui denuncia, ma non basta, non serve, perché davanti a sé è un uomo violento, ma violento, violento, e arriva da coltellarla, 15 coltellate, quasi morta, stava morendo Fiorella. Però lui esce dal carcere dopo 20 mesi e se lo ritrova a 600 metri da casa sua. Questo è un altro grave problema. Spesso anche nelle violenze, poi vanno agli arresti domiciliari, negli stessi posti dove la loro vittima è a 600 metri. Per cui rivive tutto, perché lui non la lascia in pace, assolutamente. E poi non posso dire altro perché succede qualcosa. Però nel sottotitolo c'è un po' forse, chiedo a voi, il minimo comune monomitatore di tutte queste vicende. Cioè donne che aspettavano l'amore, quello è un po' l'aspetto che accomuna tante di queste storie, perché chiaramente stiamo parlando di vittime, questo è evidente. Vittime dell'amore. E pacifico, però c'è questa debolezza di fondo di andare alla ricerca di un amore che non arriva. È proprio questo. O forse arriva ma non è l'amore giusto, forse è la scelta sbagliata proprio nel desiderio di non stare soli, di avere quella persona al fianco. È proprio questo che le dicevo prima, l'idea di pensare che l'amore possa cambiare le persone. E questo non accadrà mai. L'amore non cambia le persone. Però c'è anche una cosa in più in questo spettacolo che ritengo sia importante dire. È una denuncia, una denuncia molto forte contro la giustizia. La giustizia che non tutela queste donne, che denunciano e che se anche denunciano, ecco come la storia di Fiorella, il marito glielo mettono a vivere a 200 metri. O la bambina violentata da quattro balordi e questi quattro balordi sono tutti a piede libero. Perché? Perché hanno detto che era la bambina, la ragazza che era una poco di buono. Quindi la giustizia, una denuncia contro questo. E ci saranno anche momenti molto forti riguardo anche alla richiesta al patrocinio gratuito delle donne. Che è un po' una miscellanea di tutti questi momenti. L'amore, la giustizia, c'è un po' di tutto. Su questo fronte proprio, quello della giustizia, quindi della denuncia che c'è dietro al testo, cosa possiamo dire? Cosa è cambiato negli ultimi anni se qualcosa è effettivamente cambiato con l'attenzione mediatica? Posso, intanto non ci dimentichiamo che fino all'altro ieri, in un modo, noi avevamo omicidio d'onore. Avevamo l'omicidio d'onore? Cioè tu, ok. Codice penale. Esatto, per cui non meravigliamoci di questo. È un retaggio culturale, sono usi e costruzioni. E' piano piano. Soprattutto io credo che persone che abbiano questi problemi in casa, non vergognarsi a chiedere aiuto. Ci sono dei professionisti, psicoterapeuti, ci sono i gruppi di autori. Cioè è pieno. Non fermarsi pensando me la cavo da solo. No, non puoi, in un delirio, non riesci da sola o da soli, non si riesce. Anche perché la rete di aiuti nelle amicizie, nei rapporti, a volte può essere di aiuto anche per gli aspetti più pratici, quelli a cui facevi riferimento tu, cioè dell'assenza di protezione nei momenti più difficili. Che tipo di pubblico vi sta seguendo? Prettamente femminile o no? No, sia pubblico femminile che pubblico maschile. E devo dire la verità, quello che noi abbiamo riscontrato in questi giorni, una maggiore sensibilità da parte del pubblico maschile. Che si commuove, che partecipa in maniera attiva e che commenta. E questo secondo noi è una grande vittoria. Perché riuscire ad arrivare comunque ai cuori delle persone. Però il pubblico è misto, vengono anche tanti giovani ed è piacevole. Io sono dell'idea che questo è uno spettacolo che dovrebbe essere portato nelle scuole per educare. Tra l'altro c'è il padrocinio di Roma Capitale, che quindi dà valore al messaggio. Non abbiamo detto che lo spettacolo è in scena al teatro Tordinona, siamo in via degli Acqua Sparta 16 a Roma, quindi zona centrale, facilmente raggiungibile. L'8 marzo, immagino che non sia casuale la scelta di andare in scena. In questo periodo sarà una giornata speciale? Prevedete iniziative diverse? Si pensava anche alle scarpe rosse, cioè il pubblico. Poi abbiamo dei posti riservati. Abbiamo il posto occupato sempre, sempre dedicato alle donne che non ci sono più e che devono essere ricordate. E quindi c'è un posto a teatro che è sempre occupato con un drappo rosso. Ci sono delle iniziative, però non le vogliamo dire perché sennò poi svegliamo. Se vi siete incuriosite, è proprio l'8 marzo. Però ecco, soprattutto ci teniamo perché l'8 marzo sì è la festa della donna, ma non dimentichiamo che è una festa della donna il ricordo di donne che hanno perso la loro vita perché erano chiuse in una fabbrica per denunciare il fatto che lavoravano in maniera non adeguata, oltre le 12 ore. Quindi sì è una bella festa, però ricordiamo che tante donne quell'8 marzo sono morte. Visto che avete ricordato una vicenda che poi è stata la base delle prime lotte femministe. Di soffragette, certo. Oggi essere femminista o comunque portare avanti istanze femministe ha ancora senso? È cambiato il modo di interpretare questo termine? Io credo che un cambiamento prima lo devi fare dentro te stesso, poi puoi pretenderlo, ma i cambiamenti, nel senso se io non sono sana dentro me stessa, è inutile che vado a fare slogan, è dentro te stesso. Infatti il problema è proprio che negli anni 70 io c'ero e mi ricordo gli slogan, sono solo mia, cioè tutti questi, e pensavo che le cose, no, poi mi ritrovo negli anni, nel nuovo millennio con un assassino al giorno. Cioè per cui il cambiamento deve essere dentro, dentro le donne, dentro gli uomini, è una cosa lunga ma va affrontata. Senza dimenticare, insomma è uscito fuori dai nostri racconti, anche dalle vicende di Cronaca che riportate, rielaborate in scena, che tante violenze di questo tipo, fino ad arrivare a quelle più gravi, ma non solo, avvengono all'interno della famiglia e del nucleo familiare. Quello è un po' l'aspetto più preoccupante perché più difficile da controllare probabilmente. C'è un elemento della storia, senza voler anticipare troppo, però è interessante per capire quale può essere il percorso di queste donne. Insomma il gruppo d'autoaiuto a queste sei donne fornisce un valido appiglio, tanto da farle sentire più forti fino a che poi non accade qualcosa di drammatico che rompe questo equilibrio. Insomma quanto è sottile il filo del ritrovare l'equilibrio dopo fatti del genere, insomma nel modo in cui immagino voi vi siete preparate per queste interpretazioni, quindi anche confrontandovi con donne che hanno vissuto esperienze simili. Una domanda per entrambe. Dunque, sì, io penso che all'interno di questo gruppo succede qualcosa e una di queste donne non c'è più, cioè non ci sarà più, però io credo che ci sono le altre donne, soprattutto quella più giovane, si attacca a questo gruppo e dice no, sì vabbè, lei è morto, ok, una è morta, però noi siamo qui, lavoriamo, stiamo insieme, facciamo qualcosa perché questo non risuccede. Cioè qualcosa succede sempre, una se ne va ma qualcun'altra prende coscienza, ma non solo resta, resta crescendo. Quindi sono esperienze che rafforzano di più o indeboliscono? Rafforzano, rafforzano fortemente perché sono tutte donne che arrivano sfiancate da questa vita, da queste sofferenze, da questa battaglia continua e il fatto di trovarsi le unisce, tanto che riescono a un certo punto quasi a reagire, a fare qualcosa tutte insieme che mai si sarebbero aspettate di fare. Poi c'è questo momento tragico, ma questo filo che ormai le ho unite, le terrà legate. Il testo è di Lino Belleggia, la direzione è di Giovanni Ardoni, volete ricordare anche le vostre colleghe? Certo, certo, però le leggo perché non me le ricordo tutte. Allora c'è appunto Gianna Brei, Bianca Maria Castelli, Fabiana Lazzaro, Hélène Oliviborghese, Paola Scotto di Tella, Veronica Maria Genovese, io che sono Anna Rita Luongo. Fino al 15 di marzo in scena, rappresentare la storia di queste donne vi ha in qualche modo avvicinato al problema, ma essendo donne voi stesse e dal modo in cui parlate di questi temi probabilmente erano già aspetti che avevate approfondito. Però come vi ha cambiato raccontarle in prima persona queste storie? Beh, io penso che ognuno di noi, un po' alle spalle, se non tutti, la maggior parte, hanno una storia anche nel piccolo di questa, insomma, nella memoria. A me mi ha cambiato tantissimo perché comunque riuscire ad entrare in questo personaggio e conoscere le storie di queste donne e sapere che sono storie realmente accadute mi ha segnato tantissimo. Io sono una mamma giovane, una bimba di 5 anni e adesso ho paura, più paura, ma sono anche più preparata adesso ad affrontare determinate cose. Grazie a questo spettacolo e alla conoscenza di queste dinamiche che ho appreso attraverso il testo, attraverso lo studio, attraverso l'interazione con le mie colleghe. Gianna Breillo? Ma io è un argomento che frequento da un po' di anni, nel senso ne faccio anche delle letture, perché è un progetto che abbiamo... sono due anni che questo progetto è nato, questo progetto. Io ho avuto difficoltà ad affrontarlo, questo personaggio, perché io devo dire delle cose che io psicologicamente, però, sono andata nel mio passato a cercare qualcosa che mi potesse senza... credo che sia un personaggio che non puoi affrontare, devi affrontare senza giudizi e senza... ti ci devi calare, perché se inizi... ah io questa cosa non la... sono storie che devi raccontare, esistono e le racconti. Dal 24 febbraio al 15 marzo, lo ricordo ancora una volta, al Teatro Tordinona, via degli Acqua Sparta 16. Grazie davvero, buon lavoro, immaginiamo già stasera in scena per l'ennesima replica. Grazie davvero ad entrambe, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi torniamo con lo sport e un ospite. Grazie.